Buongiorno a tutti ragazzi, da Neu, da Merit, benvenuti nel club. Allora, oggi non sto tanto per la quale, e non è che dipende dalla pizza che abbiamo preso ieri sera. Comunque sia, quello che volevo dire, pizza meritatissima e meritata perché questa squadra ieri correva e noi no. Quindi ho sentito anche in alcune radio e ho letto su qualche articolo che la Roma grande nel primo tempo cala nel secondo. La Roma è stata alla pari, forse è riuscita ad essere alla pari del voto, trovando un gol, sbagliandone uno a tu per tu. Abram davanti al portiere, Tami e Abram davanti al portiere, trova il gol con Pellegrini, ma quelle due azioni non me l'hanno fatta sembrare nettamente superiore al voto. Anzi, ok? Perché anche il voto ha sbagliato un'occasione. Certo è stata più nitida la nostra, quella di Abram, e poi c'è stato il gol di Pellegrini, ma non c'è stata una netta superiorità. Anzi, riprendo, c'era l'odore, c'era il sintomo, la sensazione che qualcosa forse non quadrava. Fatto sta che si è sviluppata poi nel secondo tempo. Sono entrati, ti hanno segnato subito, e quella è stata la certezza di una partita che sarebbe andata a finire male, perché subito dopo tu non hai reagito, anzi ti sei sottomessa alla corsa del voto, perché quella squadra corre, e noi ieri non abbiamo corso, e questo ci fa capire la differenza tra un campionato dove noi ci sentiamo dei del calcio, quando non lo siamo, non lo siamo più purtroppo, e un campionato umile dove la gente corre. Io ora non dico che il voto è il Real Madrid, ci mancherebbe, però noi non siamo quella squadra che può permettersi di affrontare le squadre europee con la squattaggine, con la coattaggine e con il modo di fare di una grande, perché tu ieri sei entrato a un campo e l'umiltà non ce l'hai messa. Questo è quello che ho visto io, questo è quello che ho visto io. Siamo entrati un po' troppo gagliardi, noi venimo dal derby, venimo dalla Samp, venimo da quello. Eh, ma la Samp non ha corso, la Lazio non ha corso, questi ieri hanno detto noi vorremmo un pochino del più, e ci hanno rotto il culo. Con questa piccola, diciamo, questo piccolo pensiero di Neo, vi do il buongiorno un'altra volta, vi auguro una buona giornata, e che Dio ci ha mani buone nel ritorno. passo e chiudo, poi se magari qualcuno si iscrive ogni tanto, mi farebbe pure piacere. Ciao ragazzi!